Il nostro cuore è solo interista, vediamo solo nerazzurro e sarà per forza di cose la nostra storia, la nostra storia, la storia vera, la nostra, quella di una vera. Secondo noi avremo un grande piacere nel futuro perché ci hanno molto collaborato in questo anno e hanno aperto il club a Canicati. Ci siamo un po' ripasserati nel nostro gruppo e vogliamo creare nel futuro un gemellaggio per creare un grande Inter Club Canicati nel nostro gruppo. Questa sera lanciamo proprio questa voglia, questo desiderio di fare questo grande Inter Club chiamato veramente Castrofilippo Canicati. Penso che saremo ospiti graditi perché siamo innanzitutto amici ma poi un unico obiettivo insieme. Grandi Interisti! Vogliamo invitare il notaio a mandare un saluto per costruire l'obiettivo comune di un grande Inter Club Canicati nel nostro gruppo. Perché siamo tutti grandi Interisti! La parola al notaio a rendo scopi con di vista della miniatura! Grazie! 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 Raggi- abbiamo fatto una bellissima esperienza il 24 gennaio e quando siamo andati per i tempi siamo andati a una ventina di persone che è stata una bellissima esperienza che abbiamo fatto in un anno penso che la possiamo vivere così non possiamo organizzarci meglio per esempio per il terreno per il terreno con autobus e perché no anche con un po' di chance un'esperienza mia il terreno è stato in Europa fatto a Londra con il Silvente a Pace Molla quando abbiamo perso però è stato un lavoro per la stessa quindi sono cose che si possono fare come un ottimo organo per scuola quindi immagino che potremmo organizzare il nostro bene e potremmo fare qualcosa di molto molto interessante e non particolarmente con scuola io vi ho un'idea per esempio quando abbiamo fatto silenzio parlamente silenzio quando abbiamo fatto nel viaggio a Londra a Frincenzi solamente il chat costa più dietro della partita con 300 euro con due giorni in albergo costano 540 euro questo è in albergo in pieno 100 euro quindi non è stato in questa parte nuova camera si spende è una cosa che in solito si spende si impiare questa sera un'altra parte la parte è una cosa è una cosa come si spende e non è una cosa si spende la parte è una cosa che non è una cosa che è una cosa la parte in questo video è una cosa Grazie. Un ragazzo, attento la tessima, ha festeggiato proprio in questa sala. Stasera quel ragazzo intervista di allora si trova qua con un compleanno speciale che la sua intervista ha vinto la Coppa dei Campioni, Umberto Arnone ha compiuto vent'anni. Amore! Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.